Per adesso si intravede solo uno spiraglio, ma è già qualcosa. L'amministrazione comunale di Palmi sta lavorando per mettere in sicurezza il costone di Santeria e poter riaprire così la strada che porta al Borgo Marinaro della Marinella, isolato da circa sei mesi. Stiamo lavorando veramente con ogni forza perché la strada che porta alla Marinella possa essere riaperta già quest'estate. Non è facile, ma ci stiamo provando e un minimo di ottimismo mi sento di lanciarlo. La frana dello scorso dicembre ha provocato la caduta di diversi massi di grande dimensione sulla strada, portando alla chiusura della stessa. Il problema però è bene precisarlo, non è tanto rimuovere il masso e i massi e quindi ripristinare la viabilità, aggiustare la strada. Il problema serio invece è garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e quindi mettere in sicurezza il costone. Il Comune di Palmi sta attendendo la conclusione dello studio geologico che dovrebbe dettare tempi e modi per intervenire sulla parete rocciosa, ma il primo cittadino promette massimo impegno per tentare di riaprire la strada nel più breve tempo possibile. Quindi noi stiamo lavorando su due livelli, diciamo. Da un lato appunto ripristinare la viabilità con condizioni di sicurezza minime, dall'altro con un progetto invece serio di prospettiva e che risolva definitivamente il problema, mettere in sicurezza il costone e non scongiurare del tutto il pericolo, perché lì purtroppo per le condizioni morfologiche e geologiche del sito è impossibile, ma mitigare al massimo il pericolo. Francesca Altomonte per la CNews24. Grazie per la CNews24.